Tra i quattro Vangeli canonici, quello di Marco è il più antico. Non è detto che Marco sia stato il primo a scrivere un Vangelo, ma il suo testo è il più antico di quelli pervenuti a noi. Per questo motivo è stato riscoperto dagli studiosi moderni dopo che nell'antichità e nel Medioevo Marco era stato abbastanza dimenticato e trascurato dai commentatori. Oggi invece è diventato il testo forse più interessante perché circondato da questo fascino dell'antichità è considerato il Vangelo più vicino alla testimonianza apostolica, quello che conserva le tradizioni vivaci degli apostoli e custodisce ancora il sapore della tradizione orale. Marco quindi è considerato un testo particolarmente utile soprattutto per la catechesi perché è nato come strumento di avvicinamento dei catecumeni per la formazione di coloro che in quanto principianti desideravano avvicinarsi alla conoscenza di Gesù ed entrare a far parte della Chiesa. Quindi il Vangelo di Marco si presenta oggi come un ottimo strumento catechistico adatto per iniziare a conoscere il personaggio di Gesù e l'Evangelista Marco ha un carattere brillante, lo si riconosce dal modo con cui scrive ed è capace di presentarci un ritratto simpatico di Gesù. Per questo motivo ci accostiamo a lui con particolare interesse e nell'anno B che la liturgia propone come una lettura semicontinua del Vangelo secondo Marco possiamo dedicare questi momenti di approfondimento e di conoscenza al secondo Vangelo, secondo perché nell'ordine canonico viene prima Matteo e poi Luca, mentre Giovanni è una cosa a sé. Il quarto Vangelo è custode di una tradizione particolare distinta da quella dei tre sinottici. Iniziamo il nostro percorso di approfondimento domandandoci chi sia l'autore di questo testo. La tradizione antica lo ha sempre indicato con il nome di Marco. Nel libro non compare il nome dell'autore, ma negli antichi codici all'inizio è stata aggiunta una iscrizione che costituiva il titolo dell'opera, semplicemente Cata Marcon, secondo Marco. E le più antiche informazioni del mondo patristico in nostro possesso ci danno delle indicazioni precise su questo evangelista presente nel Nuovo Testamento e il cui nome viene più volte ricordato. La più antica informazione in nostro possesso viene da Papia, vescovo di Gerapoli, fra il 120 e il 130 dopo Cristo. Il libro di Papia non ci è stato conservato per intero, ma ne abbiamo una citazione nella grande storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea del IV secolo. Leggiamo quello che scrive Papia perché è una documentazione vicinissima all'era apostolica e conserva le informazioni più importanti che tutti gli altri padri della Chiesa hanno in genere ripetuto e confermato. Marco, che era stato interprete di Pietro, scrisse con accuratezza ma non in ordine quanto ricordava delle cose dette e compiute dal Signore. Egli infatti non aveva ascoltato né seguito il Signore, ma più tardi ascoltò e seguì Pietro. Questi dava le sue istruzioni secondo le necessità degli uditori e non come una sintesi ordinata delle parole del Signore, così che Marco non ha commesso alcun errore a metterne per iscritto alcune come se le ricordava. Non ebbe infatti che una preoccupazione, non omettere nulla di ciò che aveva udito e in esse non falsare nulla. Questo antico testo presenta Marco come ermeneutes petru, interprete di Pietro e probabilmente dobbiamo immaginare che fosse davvero un traduttore. Mentre Pietro parlava in aramaico o in ebraico, in una lingua cioè incomprensibile per la grande maggioranza del mondo ellenistico, Marco traduceva in greco la predicazione di Pietro, per cui gli è rimasta impressa nella memoria la testimonianza diretta di quel testimone privilegiato che è appunto l'Apostolo Pietro. In altre fonti antiche compare la notizia molto importante che Marco fosse un sacerdote levita, che appartenesse cioè ad una famiglia sacerdotale di Gerusalemme, ma rifiutò di far parte di quella categoria e non volle entrare nel servizio del Tempio perché si dedicò all'annuncio del Vangelo insieme agli Apostoli. Difatti negli scritti apostolici ripetutamente compare il nome di Marco, lo troviamo già negli Atti degli Apostoli, dove ci viene detto che il suo nome ebraico era Giovanni, mentre Marco è un secondo nome. L'aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme era filoellenista e quindi conservava i nomi tradizionali della cultura ebraica, ma amava dare anche ai figli un nome greco-romano in modo da poter stare in società alla pari, dialogando con il mondo culturale ellenistico. Si dice che la madre di questo Giovanni detto Marco, di cui ci viene dato anche il nome Maria, ospita Pietro, lo accoglie in casa, non solo, ma accoglie la comunità cristiana che si raduna nella sua casa per momenti di celebrazione e di preghiera. Tutto lascia intendere che la casa di Maria, madre di Giovanni detto Marco, sacerdote di Gerusalemme, sia lo stesso ambiente in cui Gesù celebrò l'ultima cena, per cui quella sala da pranzo che noi siamo abituati a chiamare cenacolo, era collocata nella casa di Marco. Difatti il cenacolo ancora oggi, sebbene sia stato trasformato architettonicamente molte volte, è collocato, secondo la memoria tradizionale, nel quartiere alto di Gerusalemme, nell'ambiente aristocratico, proprio vicino ai palazzi riconosciuti come appartenenti a Caifa e ad Anna. Per cui Marco doveva appartenere ad una famiglia sacerdotale aristocratica, ma i suoi genitori erano amici di Gesù, facevano parte di quell'ambiente giudaico non avverso a Gesù. Non erano in polemica con lui, ma volevano ascoltarlo ed erano anche disposti ad accoglierlo in casa. Sempre gli Atti degli Apostoli ci dicono che Marco era cugino di Barnaba, originario di Cipro e di famiglia sacerdotale. E allora questo particolare conferma ulteriormente l'origine sacerdotale di Marco, essendo stretto parente di un altro sacerdote. Barnaba è un levita che lascia l'adesione al sacerdozio di Gerusalemme per aderire al Vangelo di Cristo e diventa un predicatore di primo ordine. È un po' il garante di Paolo, lo accompagna nei viaggi, anzi è lui il capo della spedizione nella prima missione, e Marco si unisce a Barnaba e Paolo. Però ad un certo punto del primo viaggio, non sappiamo per quale motivo, Marco lascia i due compagni e ritorna a Gerusalemme. Tant'è vero che quando, verso l'anno 50, all'inizio del secondo viaggio missionario, Barnaba vorrebbe portare con sé di nuovo Marco, Paolo si oppone. Non ritiene che sia opportuno prendere con sé uno che li aveva abbandonati durante il viaggio precedente. E così Barnaba, insieme a Marco, si reca a Cipro per continuarne l'evangelizzazione e Paolo, insieme a Sila, riprende la visita pastorale delle comunità fondate qualche anno prima. Ma questo dissapore non deve avere eliminato i contatti fra Paolo e Marco, perché il nome dell'evangelista ritorna tre volte nelle lettere di Paolo. Sempre nei saluti in genere, nella parte finale, quella più familiare, colloquiale, l'Apostolo, scrivendo ai cristiani di Colossi, manda i saluti da parte di quelli che fanno parte del suo staff, che lo aiutano un po' come segreteria apostolica. Vi salutano Aristarco, mio compagno di carcere, e Marco, il cugino di Barnaba. Così anche, scrivendo a Filemone, quel prezioso biglietto sullo schiavo Onesimo, nella fase finale, quando riporta i saluti, aggiunge, ti saluta Epafra, mio compagno di prigionio di prigionia, con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori. Il nome di Marco compare anche nell'ultimo scritto Paolino, la seconda lettera a Timoteo, redatta dall'Apostolo pochi mesi o pochi giorni prima di morire. È un po' il suo testamento spirituale, quando scrivendo al discepolo che si trova a Efeso, gli chiede, prendi Marco e portalo con te perché mi sarà utile per il ministero. È evidente che nei primi due casi Marco è insieme a Paolo, nel terzo caso invece è lontano e l'Apostolo desidera che lo raggiunga per aiutarlo. Anche la prima lettera di Pietro nomina Marco e proprio nel finale l'Apostolo, mandando i saluti da parte della comunità che abita in Babilonia, cioè all'estero in esilio e con ogni probabilità indica Roma, aggiunge, anche Marco figlio mio. È un titolo onorifico che Pietro riserva a Marco, chiamandolo figlio. È evidentemente uno dei discepoli più cari che lo ha accompagnato e ha aiutato molto nel ministero di predicazione. I dati interni al Vangelo stesso non ci forniscono delle notizie specifiche sull'autore, ma ci consentono di confermare quello che abbiamo già ricavato, cioè che l'autore è certamente un giudeo cristiano ellenista, capace di parlare bene in greco, ma radicato nella cultura e nella tradizione biblica, molto probabilmente originario di Gerusalemme. Nello stesso tempo mostra un influsso del latino sulla sua lingua e infatti la tradizione colloca la composizione di questo Vangelo proprio a Roma, con destinatari dei catecumeni romani, per cui il greco che si parlava a Roma era inevitabilmente segnato da molte caratteristiche latine. Ma ci sono i riferimenti alla lingua originale di Gesù. Marco conserva molti testi in aramaico, alcune frasette o espressioni che dimostrano la sua conoscenza e il desiderio tipico del traduttore di far conoscere ai suoi destinatari la parola originale che Gesù aveva adoperato in quella circostanza. Tentiamo dunque di riassumere questi dati per ricostruire, per sommi capi, la vita del discepolo Marco evangelista. originario di Gerusalemme, appartenente ad un'aristocratica famiglia sacerdotale, Marco deve avere conosciuto Gesù proprio nella sua giovinezza. C'è un particolare nel suo racconto esclusivo in cui è possibile riconoscere un particolare autobiografico. Lo troviamo nel capitolo 15 a proposito del giovinetto che seguiva Gesù nel orto del Gezzemani. Quando viene arrestato, un giovinetto lo seguiva rivestito soltanto di un lenzuolo e lo fermarono, ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. Nessun altro evangelista riporta questo particolare. Probabilmente questo Neaniscos, un ragazzino, doveva essere l'evangelista stesso, il quale lascia nel racconto una specie di autoritratto, un modo simpatico per presentare la propria persona all'interno di quella drammatica vicenda. Se il particolare è storico e autobiografico, dobbiamo immaginare che Marco fosse il figlio di quella famiglia che ospitò Gesù per l'ultima cena. Il ragazzo curioso di circa dieci anni tenne d'occhio quello strano gruppo di uomini che aveva fatto Pasqua in casa sua e a tarda ora si era avviato verso la valle del Cedron. Dobbiamo immaginare che senza rivestirsi sia saltato giù dalla finestra e abbia di nascosto seguito il gruppo di Gesù e degli Apostoli. Il particolare del lenzuolo è interessante perché gli antichi abitualmente dormivano vestiti, solo i ricchi potevano permettersi le lenzuola e questo ragazzino che segue in piena notte Gesù rivestito solo di un lenzuolo appartiene ad una aristocratica famiglia sacerdotale. Tiene d'occhio quel gruppo di persone, li segue nell'orto degli ulivi, nascosto dietro qualche albero, osserva gli Apostoli che dormono, Gesù che prega e improvvisamente mentre le guardie arrivano per arrestarlo si sente qualcuno che gli mette una mano sulla spalla e lo blocca, si spaventa, lascia nelle mani del soldato soltanto il lenzuolo e fugge via nudo, ritorna a casa e non dice niente a nessuno, nessuno si è accorto di quello che è capitato, solo il ragazzino ricorda quell'evento straordinario e lo racconta non solo per offrire un dettaglio autobiografico, ma anche per offrire una chiave di interpretazione del racconto. Il soldato che lo ha bloccato tiene in mano solo un lenzuolo. è esattamente quello che capiterà al mattino di Pasqua, i soldati messi a guardia del sepolcro custodiranno solo un lenzuolo vuoto perché come quel ragazzino il corpo di Gesù è fuggito via nudo. C'è il richiamo ad un testo importante del profeta Amos in cui si diceva che in quel giorno, giorno escatologico dell'intervento di Dio, il più coraggioso fuggirà via nudo. È una immagine di risurrezione, quella del bambino che scappa mentre il soldato tiene in pugno solo un lenzuolo. È una scena pittoresca ambientata in mezzo agli ulivi in una notte di luna piena. Il dramma dell'arresto di Gesù è accompagnato da questo dettaglio fortemente simbolico. Il ragazzino crebbe con gli apostoli in casa. Se è vero che casa sua conteneva il cenacolo significa che la comunità apostolica visse in casa sua da Pasqua a Pentecoste e poi negli anni successivi. Per cui si trovò a crescere con la sede della comunità cristiana in casa propria. Inevitabilmente conobbe Pietro e tutti gli altri e divenne un prezioso loro collaboratore. Nel frattempo maturò, studiò proprio perché legato ad una famiglia sacerdotale e aristocratica ebbe la possibilità di fare le scuole alte. Studiò il greco, non solo l'ebraico e l'aramaico e divenne un prezioso e colto collaboratore degli apostoli. Insieme a Barnaba suo cugino collaborò con Paolo e ebbe molte esperienze di annuncio missionario nella zona della Siria, dell'Anatolia, di Cipro e arrivò a Roma. Nei primi anni Sessanta Marco giunse a Roma come collaboratore di Pietro e di Paolo ed è proprio in quella circostanza, nei primi anni Sessanta, che a Marco venne commissionato l'incarico di stendere un testo evangelico. Probabilmente Marco non scrisse di sua iniziativa un testo, ma raccolse dei documenti già scritti da altri collaboratori degli apostoli. Si tratta probabilmente di due testi che sono la traduzione di un unico originale composto a Gerusalemme nei primi anni della predicazione apostolica e queste due traduzioni diverse con integrazioni particolari circolavano fra i vari predicatori e avevano bisogno di essere fusi insieme. In questo seguo l'ipotesi di uno studioso francese, Philippe Roland, che nel 1984 pubblicò un libro sui primi Vangeli e avanzò questa interessante ipotesi ricostruttiva che mi ha convinto e ad opero quindi per la ricostruzione, sempre ipotetica, della origine dei Vangeli sinottici. Marco ebbe l'incarico dai principali esponenti della chiesa cristiana, Pietro, Paolo, Barnaba, Timoteo, di redigere un unico testo. Fu un autentico autore redattore, cioè dovette mettere insieme due testi differenti molto simili e da vero autore rielaborò questo materiale facendo tesoro della predicazione orale di Pietro che egli ben conosceva e che tante volte aveva tradotto in greco. Scrisse questo testo per la comunità di Roma. È interessante notare che scrisse in greco perché a Roma nel primo secolo si parlava correntemente il greco, il latino era riservato agli ambienti tipicamente romani, ma la lingua internazionale era il greco e Roma era una città cosmopolita, abitata da quasi un milione di abitanti provenienti da tutto il mondo antico e la lingua che tutti capivano e parlavano era il greco. Così Paolo, pochi anni prima, ha scritto la lettera ai romani in greco e Marco scrive il Vangelo per i catecumeni romani utilizzando la lingua greca. Una ipotesi avanzata da uno studioso monaco benedettino recentemente merita la nostra attenzione. Standert ha pubblicato un libro intitolandolo Vangelo di una notte, Vangelo per la vita. È il commento al Vangelo di Marco. Il titolo è un po' strano, intrigante. Che vuol dire Vangelo di una notte? Ecco l'ipotesi di questo studioso. Il testo di Marco sarebbe stato composto per essere la lettura della celebrazione pasquale, una specie di aggadà cristiana della notte di Pasqua. Aggadà vuol dire racconto, è il testo narrativo che tradizionalmente durante la cena pasquale gli ebrei leggevano e continuano a recitare. La comunità cristiana ha adattato il rito ebraico della Pasqua all'evento straordinario della morte e risurrezione di Gesù e nella celebrazione del sabato santo, la veglia di Pasqua, celebrazione notturna in attesa dell'alba della risurrezione, la lettura fondamentale per preparare il battesimo dei catecumeni doveva essere il Vangelo secondo Marco. È una ipotesi plausibile che ci aiuta a comprendere questa sfumatura che ha il racconto marciano, essere un testo di iniziazione che introduce i catecumeni alla adesione di fede a Gesù. Letto tutto di seguito richiede un'ora e mezza. È una lunga lettura ma possibile ed è un consiglio che vi rivolgo, è un suggerimento prezioso. Trovate un'occasione per leggere tutto di seguito senza interruzioni l'intero Vangelo secondo Marco. È una esperienza utile perché siamo troppo abituati a leggere brani separati di Vangelo e leggendolo a pezzetti qua e là abbiamo perso il senso del racconto unitario con una sua dinamica, con una trama, con una impostazione avvincente che porta il lettore a entrare nella storia per aderire a quel racconto. Marco infatti ha composto un testo che deve conquistare il lettore, l'ascoltatore. I catecumeni simpatizzanti della comunità cristiana che si sono preparati a ricevere il battesimo, in quella notte santa ascoltano il racconto fondativo. Dopo quell'ora e mezza di ascolto sono entrati nella storia di Gesù e fanno la loro professione di fede. Credono che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e in questa fede vengono battezzati, fanno la comunione, entrano a far parte della comunità cristiana. Marco quindi ha segnato in modo significativo le origini della comunità cristiana di Roma. Dopo la morte di Pietro nel 64 e di Paolo nel 67, Marco non è più a Roma e la tradizione dice che si recò in Egitto dove morì martire come vescovo di Alessandria, la grande capitale ellenistica dell'Egitto e per questo in quanto discepolo di Pietro Marco porta ad Alessandria una notevole connotazione ecclesiale petrina e la chiesa di Alessandria diventerà uno dei cinque patriarcati antichi. Vediamo dunque lo stile di quest'opera. Marco ha messo nel suo racconto le proprie caratteristiche anche personali e gli elementi letterari sono il frutto della sua personalità, è inevitabile. Ha conservato il ricordo tradizionale, ha riportato fedelmente i dati della predicazioni della predicazione apostolica, ma ha lasciato una infinità di sfumature particolari. Proviamo a passarle in rassegna, proprio per entrare nello stile, nel gusto, nel modo con cui Marco racconta. conserva le fonti ma le arricchisce, cioè aggiunge dei particolari, non fonde semplicemente quei due ipotetici Vangeli che circolavano già nella comunità, ma li ritocca, li amplia. Ad esempio, nella chiamata dei dodici che Matteo e Luca riportano in modo molto semplice, Marco aggiunge notevoli particolari. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì i dodici che fossero con lui e anche per mandarli a predicare. È importantissimo quel particolare, fece i dodici, li creò e il fine primario è perché fossero con lui. Essere con il Signore è il fondamento della missione. Per poter annunciare il Vangelo bisogna essere prima con il Signore. Matteo e Luca introducono la spiegazione della parabola del seminatore semplicemente con una indicazione, questa è la spiegazione. Marco invece mette sulle labbra di Gesù una formula pittoresca. Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? È una domanda quasi ironica con cui Gesù si meraviglia che gli apostoli non capiscano quella parabola. Così il vertice del racconto di Marco è costituito dalla professione di fede del centurione romano ai piedi della croce. Mentre il testo di Matteo e di Luca sottolineano con poca attenzione questo evento, Marco vi dà un grande ruolo. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse veramente quest'uomo era figlio di Dio. La professione di fede del centurione è il vertice narrativo del racconto che è finalizzato ad attirare l'adesione di fede dei catecumeni, i quali romani come il centurione ai piedi della croce sono invitati a fare la loro professione di fede, dicendo veramente Gesù è figlio di Dio. Marco evoca spesso i sentimenti dei personaggi, aggiunge piccoli dettagli. Ad esempio dice che Gesù, mosso a compassione, toccò la mano e guarì il lebroso. Quando chiede se può fare un miracolo e non gli rispondono, con indignazione, rattristato disse. Quando il padre del ragazzo indemoniato si rivolge al Gesù gli dice se puoi fare qualcosa aiutami e Gesù ha uno scatto in cui risponde se tu puoi, come sarebbe a dire? Tutto è possibile per chi crede. Al vedere che i discepoli scacciano i bambini, Gesù si indignò. Incontrando il giovane ricco che gli pone una domanda importante sulla vita eterna, Gesù, fissatolo, lo amò. I discepoli erano stupefatti a queste parole, quelli che lo seguivano erano pieni di timore. Le donne al sepolcro il mattino di Pasqua non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Tutti questi dettagli sui sentimenti, sulle emozioni, sulla psicologia dei personaggi sono esclusivi di Marco, sono il frutto della sua abilità di autore che compie un'opera di redazione, ma inserisce tutta la propria verve personale. Dà vivacità al suo racconto, introduce molti particolari vivaci e pittoreschi. Chiese Gesù che gli mettessero a disposizione una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. Così si dice che c'era talmente tanta folla che non potevano più nemmeno prendere cibo. Sono tutti dettagli che derivano a Marco certamente dalla testimonianza di Pietro e che l'Evangelista ha fedelmente conservato e inserito. Così come il particolare della tempesta sedata quando Marco dice che Gesù se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Quel cuscino è un particolare importantissimo, è un dettaglio minimo che Marco deve avere sentito tante volte ripetere a Pietro nella sua predicazione, nella sua testimonianza personale perché Pietro c'era e mentre si dava un affare sulla barca per gestire quella situazione faticosa, dà un'occhiata e vede che Gesù dorme sul cuscino ed è lì che lo sveglia dicendogli non ti importa che moriamo. Quando introduce il caso della emorroissa, Luca che era medico non dice quasi nulla se non che era molto grave. Marco invece dà dei dettagli pittoreschi e comici quasi per irridere la presunzione della medicina. Una donna che aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, si avvicina a Gesù e lo tocca. Marco elabora un racconto dinamico, vivace e veloce, aggiunge molte volte l'avverbio subito, in greco eutsis, per dare l'idea di un Gesù veloce che passa da un'azione all'altra. Nel primo capitolo lo troviamo nel giro di dieci versetti molte volte. Andarono a Cafarnao e subito entrato nella sinagoga e subito un uomo che era nella sinagoga si mise a gridare. La sua fama si diffuse subito dovunque e usciti dalla sinagoga si recarono subito in casa di Simone e di la suocera di Simone era malata e subito gli parlarono di lei. Usciti Gesù guarisce il lebroso e subito la lebra scomparve. Leggendo di seguito il racconto abbiamo la possibilità di cogliere questi particolari narrativi, così come il collegamento fra un episodio e l'altro. Marco inserisce l'espressione di nuovo per riprendere il racconto che aveva già fatto. Entrò di nuovo in Cafarnao, uscì di nuovo lungo il mare. A Marco sta molto a cuore insistere su Gesù come maestro che insegna e insegna molte cose. Si commuove per la folla che gli pare un greggio senza pastore e quindi si mise a insegnare loro molte cose. È l'unico evangelista che adopera nel proprio testo il termine Vangelo e lo mette sempre insieme a Gesù. Chi perde la propria vita per causa mia e del Vangelo la troverà. Chi ha abbandonato casa, fratelli, sorelle, madre o padre, figlio, campi a causa mia e del Vangelo riceverà cento volte tanto. Proprio all'inizio Marco mette sulle labbra di Gesù la sintesi della sua predicazione. Convertitevi e credete al Vangelo. A Marco sta a cuore il tema dell'indurimento del cuore. I discepoli non capiscono niente, è un'espressione biblica. Il cuore indurito corrisponde alla testa dura, rattristato per la durezza dei loro cuori, è Gesù. Non capivano il fatto dei pani perché avevano il cuore indurito. Gesù glielo dice ma come non capite ancora? Avete il cuore indurito? E' proprio questo il problema dell'uomo, il cuore indurito che impedisce la comprensione. a Marco piace lo sguardo circolare. Molte volte offre questa indicazione. Gesù guarda tutto intorno i suoi ascoltatori. E' uno sguardo scrutatore che fa passare in rassegna i volti dei presenti e coinvolge personalmente. Marco ha questa abilità narrativa per rendere il suo racconto vivace e il personaggio di Gesù simpatico.